Siamo ritornati a parlare di sport e di calcio in particolare, andando a dare un'occhiata ai quotidiani nazionali e ai loro approfondimenti su quanto sta accadendo nel mondo del calcio. Per quanto riguarda Repubblica, possiamo vedere lo speciale di Repubblica Sport, dedicato, come abbiamo visto in precedenza su Gazzetta dello Sport, al Nino Torres, senz'altro uno dei colpi più rilevanti dal calcio mercato. Tanto atteso Torres dovrebbe fare il suo debutto in campionato, proprio in questo fine settimana, lo sprint del Nino Torres, una star senza capricci per fare ricco il Milan. Questo è appunto il titolo scelto da Repubblica per dare il là all'approfondimento. K.O. di El Sharawi, il colpo di mercato debutta domenica a Parma e il club punta sul suo volto pulito per convincere gli sponsor. El Sharawi, l'altro giovane talento, tornato dopo un lungo infortunio, appunto sarà fermo ai box per un lieve problema fisico e quindi tutte le vetrine sono dedicate evidentemente al Nino Torres, ma anche a quanto sta per accadere questo sabato, questo prossimo sabato relativo alla Juventus con appunto Tevez. L'allarme è rientrato, Allegri lo avrà già in Champions, abbiamo appena sentito dal web le parole di Massimiliano Allegri in conferenza. E poi allora torniamo su un tema che lega le milanesi, in particolar modo su un argomento anche molto delicato, ovvero il razzismo, sempre l'approfondimento su Repubblica, l'approfondimento sportivo. Sedorf che dichiara difficile allenare se sei di colore. Chiuso il convegno contro il razzismo, dopo l'UEFA anche la FIFA attacca a Tavecchio. Tavecchio il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio che ricorderemo è stato, come dire, molto criticato, aspramente criticato da un vasto movimento di opinione per le sue fantomatiche dichiarazioni a sfondo razzista. A proposito di Tavecchio e a proposito anche di elezioni federali, sempre su Repubblica possiamo vedere questa intervista a Demetrio Albertini che è stato candidato di una buona parte della componente dei votanti per la Federazione Italiana Gioco Calcio, il candidato alternativo a Tavecchio che però non è riuscito a spuntarla. E Albertini dichiara il nostro calcio ora deve inseguire Belgio e Svizzera. Sullo titolo dichiara nessun consigliere federale aveva mai creato un caso simile. Riferito ai vari atti di presenzialismo da parte del presidente della formazione biancoceleste della Lazio che ultimamente in questa doppia recente avventura dell'Italia di Conte appunto sulla panchina della nazionale italiana ha più volte mostrato la sua presenza sui campi di allenamento creando un po' di imbarazzo nell'ambiente. E poi sempre Albertini relativa ai club dichiara evitiamo le multiproprietà, si rischia di tornare ai tempi di Gauci, il presidente famoso del Perugia. Albertini è stato il candidato dei giocatori alla FIGC, a un mese dalla sconfitta l'ex centrocampista attacca. Mille operazioni di mercato a sessione assurdo. I club per fare affari comprano bidoni all'estero ed è un'intervista particolarmente significativa di temi. Su questi temi dell'ultimo periodo Albertini chiaramente si sferma molto anche sulla nuova versione della nazionale targata a Conte, gli viene chiesto appunto un giudizio e Demetrio Albertini dichiara non c'è dubbio che Conte sia bravo, però il nostro sistema ha accumulato ritardo anche nei confronti di Belgio, Svizzera e Austria. La domanda non è cosa dobbiamo fare, ma che cosa vogliamo essere. Se il progetto non è sportivo, ma solo politico, si perde il bene più prezioso, la passione degli italiani. Nessuno si rimette mai da tifoso, però tanti si sentono presi in giro, gli stadi si svuotano per questo caso. Questo è un passaggio abbastanza importante di questa intervista dedicata a Demetrio Albertini, ma un'altra pagina importante di questa giornata sportiva è dedicata, come abbiamo visto, alle dichiarazioni di Walter Sabatini, il direttore sportivo della Roma. E non a caso il messaggero, il massimo quotidiano generico appunto sulla piazza romana, dà un ampio approfondimento su queste dichiarazioni da parte di Sabatini, che dichiara Roma costruita per lo scudetto. Il direttore Sabatini dichiara che Garcia è contento, ora tocca alla squadra dimostrarsi grande. Strotman adesso è incedibile, il nabio è eccezionale e noi tratteremo con il Paris Saint-Germain. E ancora, sempre andando nel dettaglio di quanto dichiarato da Sabatini, in Champions subito contro la squadra più forte del girone, il CSKA, Michael merita il nostro massimo rispetto. Sono due dei temi principali della conferenza stampa di Walter Sabatini, sui quali tra l'altro è tornato, come abbiamo visto poco fa, appunto anche l'allenatore della Roma, Rudy Garcia. E sempre parlando di Roma, il messaggero sottolinea un aspetto importante relativo al prossimo debutto dei giallorossi in Champions League. Manolas stop. La Roma ha scoperto che non potrà giocare contro il CSKA in quanto squalificato. E quindi Rudy Garcia sta preparando una squadra per il campionato e una per l'Europa. Sono fondamentalmente anticipazioni di quanto abbiamo già ascoltato poc'anzi, proprio dal tecnico dei giallorossi. E proprio parlando di web, andiamo a vedere che cos'altro, quali sono attualmente le novità di questi ultimi minuti, proprio con Gabriele. Sì, passiamo per un momento alla nazionale, però la nazionale Under 21, con la gazzetta appunto IT, perché è stata sorteggiata l'avversaria dell'Italia Under 21 per i play-off in vista dell'europeo. Allora andiamo a vedere Under 21, il sorteggio vede Italia contro Slovacchia. Quindi la nazionale di Biagio giocherà all'8 e il 14 ottobre per accedere alla fase finale in Repubblica Ceca. Sarà la Slovacchia quindi l'ultimo ostacolo per l'Under 21 di Di Biagio verso la fase finale dell'europeo di categoria. Per conquistare un posto in Repubblica Ceca nel 2015, gli azzurrini dovranno avere la meglio in un doppio confronto, come dicevamo, andata in trasferta l'8 ottobre e poi ritorno il 14 in casa. Gli avversari saranno appunto i giocatori slovacchi Under 21 e l'Italia era testa di serie nell'urna di Nyon, ma avrebbe potuto comunque pescare l'Olanda e altre nazionali temibili, secondo quanto sottolinea la gazzetta, come ad esempio la Croazia. La selezione allenata da Galad invece non è considerata tra le più forti. Nel girone di qualificazione ha comunque dimostrato una certa pericolosità, quindi vietato sottovalutarla. L'undici di base vediamo Russov, Paushek, Udak, Ninai, Mazan, Rosovski, Lasik, Paur, Zrelak, Duda e Schradz. Il movimento calcistico slovacco comunque da tenere sotto controllo, un movimento che ha creato il giocatore del Napoli Marek Kamsik, un mondiale nel 2010 e poi un calcio comunque in crescita. Saranno gli slovacchi, quindi gli avversari degli azzurrini in vista degli europei. Da questo tema passiamo ad un altro tema più faceto, Mijajlovic che sfida Viviano 5 punizioni. Chi avrà vinto la scommessa fra il tecnico della Sampdoria ed il nuovo portiere, appunto, dei blu cerchiati. Vediamo un simpatico video che attesta questa scommessa. Mijajlovic aveva promesso tre gol su cinque tiri. Si può vedere appunto in questo filmato della Gazzetta TV. Ecco, Mijajlovic che non ha perso l'abitudine a segnare su calcio di punizione. Il secondo tiro è una traversa, ma vi lascio con la suspense per sapere come andrà a finire questa sfida fra allenatore e giocatore della Sampdoria. Dalla Sampdoria passiamo invece al Parma su calciomercato.com. Parla Ghirardi che sostanzialmente smentisce o comunque ritratta le sue dimissioni e dice senza di me il Parma sarebbe fallito. Poi la verità sulla trattativa Biabiani-Milan. Andiamo allora a leggere cosa ha detto Tommaso Ghirardi che come osserva il portale calciomercato.com dice che fa marcia indietro. Il presidente del Parma ha dichiarato in conferenza stampa ho deciso di ritirare le dimissioni. In questi mesi ho ricevuto tantissime testimonianze d'affetto. Ringrazio tutti, ho pensato di tornare in sella nel momento difficile. Ripartiamo da basi forti, squadra, tifosi e società. Lo faccio per il bene del Parma. Sono stato dimissionario per tre mesi. Ricordiamo una decisione dovuta all'esclusione del Parma dall'Europa League. e quindi martedì c'è stato il CDA dice sempre Tommaso Ghirardi che mi ha voluto far riflettere sulla mia decisione. Se avessi abbandonato questo club sarebbe sparito non me la sono sentita. Dissi che il club era in vendita ma non l'avrei regalato. Mi sarei accontentato di riprendermi quanto speso. Ad ogni modo nessuno si è fatto avanti facendo sì che il mio abbandono significasse far sparire questo club e non me la sono sentita. Europa League alla domanda risponde e la battaglia legale va avanti finché non avrò capito se ho fatto bene o meno a manifestare il mio malcontento per quella decisione. Sul mancato passaggio di Biabiani al Milan ha risposto non era destino che andasse al Milan. Tra l'altro il giocatore per la seconda volta non è riuscito a vedere concretizzata questa trattativa. dal Parma brevemente una piccola notizia che riguarda il Napoli presentata la terza divisa di gioco come ormai è tradizione una divisa molto particolare vediamo in questo video alcuni giocatori del Napoli insigne i due nuovi acquisti Jonathan de Guzman e David Lopez con la nuova divisa in stile jeans una divisa che si spera possa portare gli stessi risultati importanti dal punto di vista delle vendite come è successo l'anno scorso con la tanto discussa maglia in stile militare o camouflage che è stata un po' nei discorsi di tutti ormai il Napoli come terza divisa sta abituando anche i suoi tifosi a stupire con delle scelte a dir poco singolari con questa notizia di colore andiamo per un piccolo break per poi riprendere con tutte le notizie di calcio nazionale e locale a fra poco grazie a tutti